Come trovo la mia password wireless in Windows 11? La password della rete wireless consente di connettere dispositivi come la stampante HP alla rete wireless. Attenersi alla procedura in questo video per individuare la password Wi-Fi per la rete a cui il computer con Windows 11 è connesso. Sul computer, cercare e aprire Impostazioni, fare clic su Rete e Internet, fare clic su Impostazioni di rete avanzate, scorrere fino alla sezione Impostazioni correlate e fare clic su Altre opzioni della scheda di rete. Viene visualizzata la finestra Connessioni di rete. Individuare la scheda di rete wireless, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e selezionare Stato. Si apre la finestra Stato Wi-Fi. Fare clic sul pulsante Proprietà wireless. Nella finestra Proprietà rete wireless, selezionare la scheda Sicurezza. Nella scheda Sicurezza, sotto il campo Chiave di sicurezza di rete, fare clic sulla casella di controllo accanto a Mostra caratteri. La password di rete wireless ora è visibile nel campo Chiave di sicurezza di rete. Trova video più utili sul nostro canale di YouTube dedicato al supporto HP. di rete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti